La terza è quest'altra che vi leggo, in effetti è un trittico che l'anno scorso è arrivata in finale al premio Montano. Si intitola Kenosis. Uno, ferita. Mi pregio di questo sfregio che mi hai fatto, signore. Questa cicatrice sulla bocca, che non rimarce, che dice ciò che non deve, che si apre al nulla, che beve l'aria in che c'è, l'acqua e il buon vino, che bacia altre ferite, a rischio forte di contagio, che ride nell'estremo disagio. E' l'ultimo anno. Due. Variante anomala. La parola che si incarna, il miracolo, su cui fa perno l'ennesima capriola della storia, la conversione intima dell'anima. Il sacrificio della vita è forse solo un eco dell'eco, una radiazione cosmica di fondo della voce del padre, del primo invio del plerma. Solo un'onda statistica che consente l'inversione di segno alla funzione, riassumendo in un grafico la missione del figlio che viene e nel frescola del mondo risobbedendolo, taci. Forse tutta la storia si può scrivere così, nello spazio piano di una variante anomala. Tre. Meraviglia. Non chiude. C'è un velo. Una lasca. Una spina. Un fuscello leggero. Una trave. Sospesa sul volto. La sclera dell'ala. Carfalla leggera. Che vola. Sbattendo le ciglia. Ti guarda. Mi guarda. La rarissima e sola. La mia. Meraviglia. Grazie. 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 Grazie.